E' arrivato Pedro alla Roma, è ufficiale Sul problema ragazzi qua tutto sotto controllo, è arrivato Pedro alla Roma, è ufficiale Ieri c'è stato l'annuncio e niente, Pedro arriva alla Roma a parametro 0 Dopo 5 stagioni al Chelsea, dopo aver vinto tutto tra Chelsea e Barcellona, tra Premier e Liga Vuole arrivare in Serie A, poi potrà vincere qualcosa con la maglia di giallorossi che non vincono un trofeo da molti molti anni Pedro è un ala destra, lo conoscete tutti, lo avete visto penso giocare almeno una volta, che miseria E' un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di spiegazioni Va alla Roma penso per fare il titolare o comunque per fare l'uomo di esperienza per far crescere il giovane Cengiz Under Infatti gioca nella stessa fascia e sarà tra di loro il balottaggio Ma voglio farvi un discorso che vi ho fatto anche nell'articolo sul sito che trovate in descrizione Allora, la Roma acquista Pedro, Pedro è un'ala offensiva Ci troviamo, nella tre quarti della Roma troviamo a sinistra Mkhitaryan e Kleybert A destra Perez e Under Sulla tre quarti Zaniolo che può giocare anche a destra Perotti e Pellegrini che può giocare anche a mediano E Perotti che può giocare anche sulle fasce E' arrivato Pedro, chi verrà ceduto? E qui penso un po' perché comunque tra tutti i diciamo il più indiziato che potrebbe partire è Perez Perché è quello che non ha fatto granché insieme a Kleybert, uno dei due Però altrimenti l'arrivo di Pedro a me fa pensare che parta Under Parta proprio il Turco Sul Turco c'era il Napoli Che non penso a questo punto possa fare un affondo serio prima di vendere uno tra Milik Anzi no, uno tra Milik Prima di vendere Milik e scartare anche qualche altro esubero E poi non abbiamo bisogno anche di un terzino nel caso Goulam parta Ma, oltre a Under, chi potrebbe partire? Io non penso parta uno come Zaniolo Anche perché Zaniolo gioca centrale Pure se può giocare a destra Zaniolo gioca tre quartista centrale Può partire Perez, mi è arrivato l'anno scorso Quindi per me uno tra Under e Kleybert partirà Stiamo attenti a vedere chi parte perché anche a livello fantacalcistico Chi fa l'asta prima della fine del calciomercato si troverà in difficoltà con le altre quarti della Roma Perché infatti ci saranno tantissimi giocatori verso gli tre posti E ne sono circa nove, otto, comunque sono tantissimi giocatori Chi vi consiglio di prendere? Assolutamente vi consiglio Zaniolo Non c'è bisogno che ve lo dica Perché comunque è il migliore sulla tre quarti Ed è anche quello che secondo me ha il posto sicuro Perché come tre quartista centrale Lui ha il ballottaggio con Pellegrini Che però viene adattato anche Mediano E con Perotti che è un giocatore che comunque Non è questo granché in confronto a Zaniolo Ma poi chi vi posso consigliare? Posso dire Mkhitaryan Mkhitaryan perché comunque sulla sua fascia ha Kleybert Uno degli indiziati a partire E quindi potrebbe giocare titolare Ve lo consiglio Pedro Sì Però da prendere con cautela Cioè fate attenzione a prenderlo Dovete prenderlo assolutamente in coppia con Under Però se parte Under Vedete c'è un... Ci sono dei problemi Quindi per questo vi consiglio di non puntare troppo su Pedro Non alzate troppo il prezzo Prendetelo come giocatore sotto i semi top Perché può essere veramente un colpaccio Può essere veramente un giocatore alla Ribéry L'anno scorso alla Fiorentina Però allo stesso tempo può rilevarsi un giocatore Che alla fine verrà giocato poco Ed è arrivato qui alla Roma Giusto per diciamo per aiutare la squadra Per fare l'uomo squadra Perché comunque con l'esperienza che ha Ha vinto di tutto ragazzi Ha vinto di tutto Guardatevi il palmarès di Pedro L'ho messo anche nell'articolo sul sito E ragazzi ha vinto veramente tutto Champions, Europa League, Mondiale, Europeo Campionato inglese, campionato spagnolo Di tutto E quindi lui arriva là comunque per fare L'uomo spogliatoio L'uomo che ti dà grinta E se arriva alla Roma solamente per questo E comunque è arrivato a parametro zero Beh sarà un po' un flop al fantacalcio Io non penso Però fate attenzione a prenderlo E non sborsate troppi fantamini Ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto E niente Cosa ne pensate di Pedro alla Roma? A mio parere è stato veramente un acquistone per la Roma Io vi saluto Ciao a tutti